Sulle polveri gli potrei dire qualsiasi cosa, gli potrei dire ti rovini, butti via i tuoi soldi, butti via la tua vita, che senso ha? Io mi dicevo da ragazzo, alla fine queste cose le ho vissute, non ho rimpianti, ho tanti rimorsi, quando poi ci vado a pensare dico però non fossi stato così stupido avrei finito l'università, mi sarei laureato, avrei fatto una vita sì forse più normale per alcuni più banale, però una vita che invece io adesso invidio a quelli che erano i miei compagni di classe delle medie, del liceo e che vivono fuori in maniera serena. Io non ho grossi problemi con la sostanza, il mio grosso problema è la criminalità, io sono affascinato, ci ho sempre vissuto, so come si fa, questa volta invece mi voglio dare l'ultima possibilità, voglio proprio uscirne da tutto, sono convinto di farlo e questa volta non lo faccio per nessuno ma lo faccio solo per me stesso.